A tutti voi buonasera dal Tg Max. Sette ordini di custodia cautelare sono stati effettuati questa mattina all'alba dalla squadra mobile di Pescara per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione aggravata e falso in atti pubblici. L'operazione è stata diretta dalla procura aquilana. Le indagini sono state condotte anche con l'ausilio di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali e hanno consentito di accertare l'esistenza di un'associazione criminale tesa a condizionare l'affidamento di commesse pubbliche in cambio di contropartite economiche consistenti in contratti di consulenza e assunzioni clientelari. In particolare gli illeciti accertati riguardano l'aggiudicazione fraudolenta in favore della società ecosfera di una pubblica gara per l'affidamento in appalto del servizio di valutazione in itinere del programma di cooperazione trasfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 e l'assegnazione di una commessa relativa alla realizzazione di un software per il monitoraggio del PORFERS 2007-2013 in favore della Cyborg. Tra gli arrestati anche Lamberto Quarta, ex braccio destro di Del Turco, e Giovanna Andreola, dirigente del servizio attività internazionali presso la regione Abruzzo. Tra gli indagati anche il vice presidente della giunta regionale e assessore alle attività produttive e sviluppo economico Alfredo Castiglioni. Avrebbe fruttato quasi 150 mila euro la vendita al dettaglio dei 19 chili di hashish sequestrati dai carabinieri di Chieti. La droga proveniva dalla Puglia. Quattro le persone finite in manette. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Chieti a San Buceto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti di 19 chili di hashish. Gli arrestati sono Francesco Di Reda, 32enne, commerciante ambulante, Vincenzo Di Lorenzo, 35 anni, imprenditore e contitolare di una ditta che produce taralli. Un suo dipendente Gianfranco Garofalo, 44enne, tutti di Cerignola, e Luca Cavallito, 38enne di Montesilvano, ex calciatore dilettante. Lo stupefacente proveniente dalla Puglia sarebbe stato messo sul mercato nell'area metropolitana Chieti-Pescara. La vendita al dettaglio avrebbe fruttato almeno 150.000 euro. I quattro sono stati rinchiusi nel carcere di Chieti. Sulle modalità degli arresti il capitano Livio Lupieri, comandante della compagnia dei carabinieri di Chieti, che ha illustrato l'operazione nel corso di una conferenza stampa. Il passaggio in particolare di una scatola che apparentemente doveva contenere taralli da una macchina all'altra e i successivi movimenti volti a nascondere il contenuto di questa scatola dietro i pannelli delle portiere anteriori della macchina ha insospettito i militari che subito hanno fermato le quattro persone e grazie all'accurata perquisizione veicolare successivamente portata a termine hanno potuto rinvenire questi 200 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 19 kg che al mercato al dettaglio avrebbero fruttato probabilmente fra i 150.000 e i 200.000 euro. Il mercato di destinazione è presumibilmente quello dell'area metropolitana di Chieti e Pescara perché i soggetti si sono spostati dall'Interland Teatino alla periferia pescarese proprio per cercare contatti sul luogo. Con l'intento di fare chiarezza sul naufragio della costa Concordia, Genova è stato costituito dagli associazioni di consumatori aderenti al Consiglio Nazionale Consumatori Autenti il Comitato Naufraghi della Concordia. Al Comitato possono aderire coloro che vittime del disastro hanno subito danni personali e materiali tra i naufraghi e anche il parrucchiere lancianese Silvio Luciani. La sua testimonianza? Io lo so questa nave perché dovevo partecipare a questa professione lookmaker che era un reality che presenta Francesca Rettondini, ci sta il gruppo Avatar. Questa era una formazione e l'ultima settimana di questa crociera c'era un provino finale. Quindi praticamente sono andato là per partecipare perché comunque mi interessava diciamo entrare in questa sfida di questa trasmissione perché comunque parte il Montepremio ma anche per un attimo la notorietà televisiva, mi piace entrare in questo settore quindi diciamo ecco spero di diventare famoso per il reality non per essere salvato diciamo quella nave che affondava. Freddo intenso e nevicate si sono registrate questa mattina su gran parte dell'Abruzzo la neve è caduta su molte località della provincia di Pescara e del Chietino anche a quote basse come in Val di Sangro e a Lanciano. La circolazione e qualche incidente a parte di lieve entità non ha registrato disagi particolari sulle principali arterie. Indispensabile la massima prudenza anche per le rigide temperature. Si possono incontrare possibili tratti ghiacciati. È lavoro già dalla notte i mezzi spargi sale. I carabinieri di Penne e Popoli hanno arrestato nella notte sette persone per furto aggravato di rame gli arresti sono avvenuti in flagranza di reato. Si tratta di due italiani, quattro romeni e un bulgaro sorpresi a rubare nelle località di Bolognano e Penne. Nel centro vestino tre romeni e un bulgaro sono stati notati in località Mirabello mentre portavano via da un impianto fotovoltaico circa 1200 kg di cavi elettrici in rame con un danno stimato in 40.000 euro. Oltre all'area furtiva sono finiti sotto sequestro molti attrezzi da scasso, passamontagne e indumenti utilizzati per non essere riconosciuti. A seguito di un furto invece nella centrale Enel di Piano d'Orte, i carabinieri di Popoli hanno controllato un furgone con tre persone a bordo, padre, figlio pescaresi e un romeno e hanno trovato una bobina di cavi in rame di circa 200 kg insieme ad Arnesi atti allo scasso e una cesoia. La CGL Abruzzo chiede una nuova legge sullo sviluppo. Sentiamo. Nei giorni scorsi abbiamo riferito dell'abbandono del cosiddetto patto per lo sviluppo di alcune importanti organizzazioni di categoria imprenditoriali, Confesercenti, CNA, Confartigianato che ritengono insufficiente quanto la Regione sta facendo per il rilancio delle attività economiche in Abruzzo. Ad esprimere valutazioni non positive nei confronti del Presidente Gianni Chiodi e della sua giunta, adesso c'è anche la CGL che ritiene si debba superare la logica del patto, concetto meramente simbolico, per affrontare in concretezza i temi da svolgere per il rilancio dell'economia e dell'occupazione attraverso una legge per lo sviluppo. Ascoltiamo Gianni Di Cesare, segretario regionale della CGL. Noi abbiamo con questo intervento vogliamo sollecitare il passaggio dal patto dello sviluppo a una legge sullo sviluppo. Noi abbiamo una legge che ancora non è conosciuta da nessuno, è in itinere, ma è una legge che per noi è troppo scarna, non è trasparente, non è pubblica ancora e non è ancora una base comune di discussione. Pensiamo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il patto dello sviluppo debba essere appunto arricchito da questa legge sullo sviluppo in tutti i settori. I beneficiari non possono essere soltanto le imprese. Uno sviluppo di questa regione ha bisogno di avere al centro le università, i centri di ricerca, al centro la tutela e la sostenibilità ambientale e quindi tutti i soggetti che possono fare sviluppo attraverso l'ambiente. I soggetti come le città, a partire dalla città capoluogo che avrebbe bisogno di essere riconsiderata nelle sue funzioni produttive, artigiani, commercianti, professionisti. Quindi c'è bisogno di una scelta di fondo importante e impegnativa. L'Abruzzo non ha mai avuto da molti anni una legge così fatta. Il patto dello sviluppo aveva ed ha questo compito. Bisogna ritornare a fare una discussione di fondo in questa regione che da molto tempo che non si fa. Partirà domani a Lanciano l'indagine sulla mobilità veicolare in entrata e in uscita dalla città. I dati serviranno per redigere il nuovo piano generale del traffico che manca ormai da 20 anni. Per la prima volta l'amministrazione comunale di Lanciano ha predisposto un'indagine sulla mobilità veicolare in città. A partire da domani i flussi in entrata e in uscita saranno rilevati mediante un sofisticato sistema di acquisizione video MioVision posizionato in oltre 60 punti della rete stradale urbana. La campagna di indagine è stata affidata alla TPS di Perugia per un importo di 35.000 euro. I dati saranno disponibili tra un mese e serviranno a redigere il nuovo piano generale del traffico urbano che manca da 20 anni. L'indagine è suddivisa in tre fasi. Nella prima, dal 17 al 21 gennaio, saranno rilevati flussi veicolari. Nella seconda saranno eseguite indagini sui parcheggi. La terza coinvolge anche i vigili urbani che fermeranno i cittadini per sottoporli con l'aiuto della TPS ad un questionario. Nessuna paura di ricevere multe quindi avverte il vice sindaco assessore alla mobilità Pino Valente. I cittadini magari subiranno dei fastidi ma la loro collaborazione sarà fondamentale per migliorare la viabilità e rilanciare lo sviluppo della città. Per la prima volta si sta pianificando il futuro, lo sviluppo di Lanciano. Monitoreremo tutto il traffico veicolare in entrata e in uscita ma faremo anche uno studio approfondito sulla domanda e l'offerta di parcheggi nella città. Un'indagine multidisciplinare che coinvolge anche gli assessorati ai lavori pubblici e l'urbanistica. Tra le priorità affidate alla TPS c'è infatti quella di monitorare flussi veicolari in due punti particolarmente delicati di accesso alla città dove spesso si formano code. Il semaforo nei pressi della cava di Ghiaia e quello di Villa Martelli. Per il primo è prevista una rotatoria la cui grandezza sarà stabilita anche grazie alle indicazioni che risulteranno dall'indagine della TPS e finanziata con 600 mila euro dalla regione Abruzzo. Anche il semaforo di Villa Martelli sarà sostituito con una rotatoria che dovrebbe essere finanziata con i fondi messi a disposizione sempre dalla regione per la sicurezza stradale l'assessore all'urbanistica Sasso. Sono due opere strategiche che penso che una volta realizzate risolveranno la fluidificazione del traffico per cui i cittadini godranno di grossi benefici sotto questo aspetto. Infine il presidente del Consiglio Comunale Donato Difonso non risparmia critica alla vecchia amministrazione Paolini. Va fatta assolutamente questa calendarizzazione all'inizio di un mandato. Non si può fare all'ultimo momento come è stato fatto dalla precedente amministrazione Paolini che molto faraginosamente all'ultimo momento cercò di fare tante cose e poi la realtà dei fatti non ha fatto niente ma soprattutto aver fatto una zona traffico limitato proprio alla fine che poi non ha portato avanti. Ecco le programmazioni a livello comunale vanno fatte all'inizio. Io dico che oltre a questo noi per i primi di febbraio porteremo in Consiglio Comunale per esempio la variazione al piano regolatore che è stato approvato in modo che a fine ottobre dopo le osservazioni potremmo già portare in cantiere anche non soltanto già da adesso il piano regolatore ma anche la variazione al piano regolatore. Con il rito abbreviato è stato condannato a 4 anni, 8 mesi di reclusione. Il lancianese Antonio Bomba, 79 anni, è arrestato l'8 agosto per aver tentato di uccidere la moglie Olga Catenaro di 73 anni. L'uomo aggredì la donna in casa sferrandole oltre 30 colpi con delle forbici da sartoria per un millimetro. La donna non venne colpita al cuore. Il gruppo ha disposto che l'uomo resti in custodia cautelare in una clinica privata. I risultati delle perizie hanno accertato che era parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Rapina alla banca Tercas di Corropoli dove poco dopo l'apertura dello sportello due uomini ha volto scoperto, armati di taglierino e con accento napoletano. Dopo aver minacciato i dipendenti si sono fatti consegnare il denaro destinato alla ricarica del banco. Matti il bottino si aggirebbe. Intorno ai 30 mila euro i due si sono allontanati a piedi. Quasi certamente, secondo i carabinieri, i due rapinatori avevano un terzo complice ad attenderli in auto. Per dare un volto ai banditi sarà importante la testimonianza dei bancari. Attilio Di Mattia è candidato sindaco del centro-sinistra al comune di Montesilvano. Di Mattia è esponente dell'Italia dei Valori. Ha vinto ieri le primarie del centro-sinistra a cui hanno partecipato quasi 4 mila cittadini. Sì, effettivamente le primarie a Montesilvano sono state un atto di estrema democrazia, un evento bellissimo, un rito mai fatto qui a Montesilvano. Quindi una bellissima esperienza per tutti i cittadini di Montesilvano. Attilio Di Mattia, dell'Italia dei Valori, ha vinto le primarie del centro-sinistra a Montesilvano e ora si dice pronto a scendere in campo come candidato sindaco. Quasi 4 mila cittadini si sono recati alle urne, ha detto Di Mattia, dimostrando di avere una grande voglia di tornare a partecipare attivamente all'amministrazione della città. Di Mattia, appoggiato anche dal PD e dall'ex sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, sostiene che il Partito Democratico è stato e sarà la vera infrastruttura del centro-sinistra. Di Mattia ha già avuto colloqui con il segretario del Partito Democratico, Silvio Paolucci, con il segretario regionale dell'Italia dei Valori, Alfonso Mascitelli e con il coordinatore regionale di SEL, Gianni Melilla, per fissare le linee programmatiche. Fra i punti essenziali ci sarà il problema dell'urbanizzazione di Montesilvano e l'ambiente. Il primo obiettivo, ha detto il futuro candidato sindaco, è quello di riportare però i cittadini al centro della città di Montesilvano. Nella sala consigliare di Palazzo di Città c'erano fra gli altri Carlo Costantini e Alfonso Mascitelli dell'Italia dei Valori, Gianni Melilla di SEL e il coordinatore provinciale del Partito Democratico Antonio Castricone. Questa vittoria, ha aggiunto Mascitelli, conferma la volontà del cambiamento che c'è a Montesilvano e allo stesso tempo, ha concluso Mascitelli, emerge la linea vincente dell'Italia dei Valori, che nei sei comuni dove si vota ha deciso per il rispetto delle espressioni dei singoli territori. Tre 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Montesilvano dopo essere stati sorpresi ad imbrattare il muro di contenimento del sottopasso ferroviario di Viale Europa. I militari li hanno bloccati mentre stavano effettuando disegni e murales con le bombolette spray e li hanno affidati ai genitori. Due 17 anni vivono a Pescara e il terzo a Chieti. Le cinque bombolette utilizzate sono state sequestrate, il reato di cui dovranno rispondere, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ed ora voltiamo pagina, ci occupiamo di calcio, in Lega Pro Domenica Vara per le Abruzzesi, perdono Lanciano Chieti e Celano, pareggia in casa il Giulianova, unico successo per l'Aquila. Domenica Vara per le portacolori di Lega Pro con tre sconfitte, un pareggio, una sola vittoria. Il primo disco rosso del nuovo anno arriva da Trieste con Lanciano che cede agli alabardati per tre reti a zero dopo le illusioni di parte del primo tempo con Pavoletti, pericoloso per due volte. I rossoneri infatti crollano sul finire della prima frazione. L'arbitro decide di concedere un calcio di rigore per un fallo di mano di Turchi in barriera, gol triestino e poi l'espulsione di Turchi per doppio giallo. Partita segnata e nel finale arrivano altri due sigilli locali complici l'espulsione di Vastola con Lanciano in panne. Forse il passivo è troppo pesante con Gautieri e Calderisi che al tripice fischio fanno scintille. Sentiamo. Perdere come ho perso oggi, posso anche dire che sono molto soddisfatto, nel senso perché la squadra ha giocato, ha fatto la partita, abbiamo perso, penso non meritavamo, cioè 10 contro 11 per 85 minuti con un rigore inesistente. Il secondo tempo ti lascia addirittura in nove, è normale che poi saltano i nervi, succedono cose che non dovrebbero succedere. Questo fa parte del gioco, dispiace perché abbiamo perso. Vedere il risultato può sembrare che sia stata dominata dalla Triestino, invece non è così. Raccogliere un risultato così importante contro un'ottima squadra come Lanciano, anche se la partita è stata agevolata dalle espulsioni, ci ridà un pochettino di forza e di coraggio. Noi siamo orgogliosi di quello che facciamo. Poi dopo purtroppo molte volte non siamo capaci di concretizzare o non siamo capaci di portare a casa i risultati e questo però non ha niente a che vedere con lo spirito di questo gruppo e la forza di questa squadra. In seconda bene l'Aquila che vince al Fattori e mantiene la seconda posizione in classifica e tre gol rosso-blu arrivano tutti nella ripresa, apre Ruggero di testa, poi Giglio propizia una dorete, chiude Piccioni per un successo che non fa una piega. Peccato invece per il Chieti che contro la capolista Perugia perde di misura decisivo il gol al pronti via di Tozzi Borsoi con la voglia nero-verde che non avrà però fortuna. Il reparto offensivo teatino sbaglia troppo sotto rete. Il tecnico Silvio Paolucci. Necaccio vince chi sbaglia di meno, loro hanno una squadra di giocatori importanti che sbagliano poco e non stanno lì per caso, stanno lì perché meritano questa classifica, perché nel calcio quando si vincono queste partite vuol dire che hanno una cosa di importante. Al Rubens Fadini il Giulianova non va oltre l'1-1 contro il Campobasso, Molisano in vantaggio per primi, poi ci pensa Piccone a rimediare, terza espulsione stagionale per Carbonaro e partita compromessa, un rapporto difficile quello tra l'attaccante e il tecnico Tiziano De Patre. Disco rosso per il Celano di Petrelli che recupera con un bel gol di Luzzi lo svantaggio iniziale ma nel finale lascia via libera a Visone, 2-1 il finale e con la classifica che ritorna drammatica. In Serie D il Teramo riprende la sua marcia con una goleada, Aliserni a 5-0 il finale con l'Ancona che pareggia in casa con 4 punti di ritardo rispetto la vetta. Nel derby di giornata Tessa Valdisangro e San Nicolò finiscono sull'1-1, vince il Luco Canistro sul Real Rimini per 2-0, perdono in trasferta Angolana e Sante Giliese, pareggio esterno del Miglianico sul terreno dell'Agnonese. Scendiamo in eccellenza dove la Miternina sbanca Guardiagrele e si consolida in vetta, seconda posizione per il Francavilla, 4 punti dalla capolista. Ancora è sempre a Miternina in vetta la classifica col Francavilla che insegue il Montorio che perde le distanze, ora a 6 punti dalla vetta. La capolista non perde un colpo e sbanca Guardiagrele con un secco 2-0 per il diciottesimo risultato utile di fila, Pierleoni apre nel primo tempo, Federici nella ripresa mette al sicuro il risultato. Alle spalle della capolista c'è solo il Francavilla, anch'esso vittorioso in trasferta con un Roboante 5-0 sul terreno del Castel di Sangro, partita al sicuro già nel primo tempo con le reti di De Filippis, doppietta per lui e Lalli nella ripresa vera e propria goleada con le marcature di Del Pizzo e Tano. Montorio 88 ed Alba Adriatica finiscono sullo 0-0, mentre in quarta posizione si consolida il Sulmona che ha gioco facile nel travolgere a domicilio la Spa-Lanciano con un perentorio 6-0, la sequenza dei gol con Cau e di Genova nel primo tempo. Senza pietà gli Ovidiani nella ripresa, segno con Labon, la doppietta di Sablone e il sesto centro ad opera di Pelusi. Manno e Quintiliani rilanciano lo Sporting Tullum verso la zona play-off piegando con un gol per tempo il San Salvo. Vasto Marina e Rosetana pareggiano con un gol per parte, in vantaggio i bianco-rossi con Aziz, poi i bianco-azzurri rimettono in piedi la partita grazie ad Improta. Reti bianche tra Martinsicuro e Mosciano, un bel gol di Coccione consegna al Casalin Contrada il successo Corsaro sul terreno del Capistrello. Cologna Paese e Pineto finiscono sul 2-2 in vantaggio i locali con Potacui, pareggia il conto di Felice che poi si ripete sul rigore, definitivo 2-2 con firma di Chiarastella. Ed è tutto, vi lascio al Meteo Max e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Telemax. Arrivederci. Grazie.